Vi ricordate l'ex Miss Italia, Danny Mende? Oggi è irriconoscibile e campa così. Benvenuta o benvenuto in questo nuovo video, se ancora non l'hai fatto ti invitiamo a cliccare sul tasto iscriviti, e se ti va puoi lasciare anche un like. Da quando ha vinto Miss Italia nel 1996, Danny Mende ha percorso una lunga strada, distinguendosi come la prima vincitrice di origini non italiane, un evento che ha suscitato ampio dibattito e interesse, la sua ascesa nel mondo dello spettacolo e della moda è stata rapida, diventando presto un volto noto e ricercato per svariati marchi e appare nelle più svariate trasmissioni televisive. La sua passione per la recitazione l'ha vista debuttare sul grande schermo nel 2003 con il ronzio delle mosche e successivamente in produzioni televisive come Chiaroscuro e la popolare sop opera Un posto al sole, dove ha interpretato il ruolo di Barbara Cefariello. La sua carriera non si è fermata dopo il trionfo a Miss Italia. Infatti, Danny ha continuato a dimostrare il suo talento e la sua dedizione, ricevendo riconoscimenti come il premio Arechi d'Oro al Festival Internazionale del Cinema di Salerno. La sua vita ha preso una svolta significativa con la nascita di sua figlia Indiana Yara. Nel 2016, frutto dell'amore con l'ex compagno Oscar generale, questo evento l'ha portata a selezionare con maggiore attenzione le sue opportunità lavorative. Privilegiando la vicinanza con la figlia, oggi, Danny Mende è una madre affettuosa e una professionista affermata nel mondo dello spettacolo. Continua a lavorare come modella e ha consolidato la sua carriera come attrice e conduttrice per Sky, dove conduce programmi incentrati su economia e imprenditoria. Grazie alla sua preparazione e alla sua capacità di condurre interviste, ha saputo guadagnarsi il rispetto nel settore, i suoi numerosi fan la seguono con affetto e interesse su Instagram, dove Danny è molto attiva, condividendo regolarmente storie e post che offrono uno sguardo sulla sua vita professionale e personale. Se questo video ti è piaciuto ti invitiamo a seguirci e a guardare qualche altro nostro video. Se ti va lasciaci un like e commenta con i tuoi pensieri.